5 dicembre 1791 muore Wolfgang Amadeus Mozart, compositore e pianista austriaco. Mozart è annoverato fra i geni della musica, dotato di raro talento manifestatosi precocemente e morto a soli 35 anni di età lasciando pagine indimenticabili. Le composizioni di Mozart spaziano in tutti i generi musicali del suo tempo. La musica sacra, l'oratorio, la sinfonia, il concerto per strumento solista ed orchestra, la musica da camera, la sonata per pianoforte e il lit. È il principale esponente del classicismo settecentesco.